... Cari amici di Spezia TV, dove siamo? Siamo nel backstage della sfilata che si è appena conclusa qui al Papiglio, questa sera. Vicino a me, avete sentito, prima cantava. Canta ancora. Give it to me, yeah, no it's gonna stop me, no. Icona pop, anni 70, 80, 90, 2000, 2010, 2015. 200 anni praticamente. Ma li porta benissimo. Eh sì, dicono tutti che è merito di madre natura. Io un pensierino a padre chirurgo ce lo farei anche, no? Miss Cristiana Ciccone Ferrise, con mille cognomi, e adesso Chris Egocentric. Perché? Perché è il nome della mia linea di t-shirts, uomo e donna. Bellissima che ha appena sfilato. Spiegacela. È una... insomma io lavoro anche un po' nell'arte, quindi i temi delle mie magliette sono praticamente ispirati ai più grandi pittori del mondo. Raffaello, Michelangelo, no, Michelangelo no, Donatello. Ci siamo allargati. Ci siamo allargati un po' troppo. Comunque qualche scultura l'abbiamo. Quindi abbiamo il David. Dov'è il David? Scappato. Infatti ora ve li facciamo vedere, perché amici di Spezia TV, non siete stati alla sfilata, ma è come se ci foste, perché qui vicino a me ci sono i modelli che hanno appena sfilato. Quindi le t-shirt uomo o donna che hanno appena sfilato, con i temi appunto proposti da Chris Egocentric, tutti ispirati alle icone del momento. Quindi ecco, fisici scultori, quadri pittorici, stampe pregiate, poi abbiamo i manga, abbiamo vari temi. Sì, certo. Abbiamo soprattutto la Evergreen, che è una linea molto caratteristica del mio marchio, che appunto rappresenta i più grandi quadri. Quindi la donna con orecchino di perla, la dama con ermellino, l'uomo vetroviano e così via. Poi abbiamo la Limited Edition, che è dedicata in questo momento alla Popstar Madonna, quindi grande musa ovviamente della mia vita, ispiratrice, al quale devo tante soddisfazioni, ecco. E infine abbiamo la Revolution of Love, che è dedicata a tutti coloro che hanno intenzione o piacere di esprimere il loro amore senza barriere e senza alcun tipo di timore contro questa società che, ahimè, è sempre più omofoba. Certo. E se vi piacciono e volete acquistarle, come si fa? Basta andare su www.chrisegocentric.com Benissimo. Tutto social. Tutto social. Se volete seguirmi, seguitemi sul mio profilo Facebook e Instagram. Un saluto a Spezia TV. Ciao a tutta Spezia. Hi guys. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Next stage, sempre della sfilata qui al Pappilio. Una sfilata molto particolare. Vicino a me. Un personaggio molto particolare perché questa sera ha vestito i panni della modella, è stata una testimonial di eccezione, vicino a me Barbara Fermi, campionessa, ma ce lo dice lei. Ciao a tutti, mi chiamo Barbara Fermi, sono Miss Universo in carica IBFF, due volte campionessa mondiale, sono un istruttore funzionale, sono un istruttore di sala, alleno i ragazzi per prepararsi alle gare e appartengo a una palestra che si chiama Vida Village alla Spezia sotto il Megacine, ho 46 anni e vorrei trasmettere questo sport ai ragazzi che vogliono incominciare ad avvicinarsi alle gare, quindi uomini e donne e sono contenta di essere così come sono. Bene, un bellissimo messaggio da Barbara, noi ti ringraziamo di esserti prestata questa sera e siamo molto contenti e onorati di averti avuto qui. Grazie a voi, il piacere è stato veramente grande, ciao a tutti, vi aspetto, ciao!